E' uno spazio di libertà e di partecipazione nel quale a partire proprio dai libri, la mission della biblioteca è proprio quella della promozione della lettura, a partire dai libri però ci si incontra, ci si conosce, si discute, si costruiscono anche modalità di confronto e di apertura agli altri dove è possibile uno scambio davvero libero, aperto delle esperienze di lettura che solitamente si fanno individualmente. Ciascuno vi si accosta a questo momento, a questa iniziativa dei gruppi di lettura in maniera con aspettative, probabilmente con atteggiamenti molto diversi gli uni dagli altri e sta proprio in questo anche la bellezza, c'è chi lo fa per rispondere a una curiosità, chi perché è stato informato o è stato invitato da un amico o da un'amica, chi vuole ascoltare, chi invece vuole dire la propria, chi è un fortissimo lettore, chi invece non è abituato a leggere con il metodo. Ecco, la bellezza di questi gruppi di lettura è che proprio c'è posto per tutti, per tutti e per tutte. Ecco, devo dire che non posso nascondermi, però ci sono, dopo due anni, posso dire, dei gruppi collaterali, di cui bisogna essere consapevoli prima che voi prendiate, come dire, la decisione definitiva di far parte di uno degli otto gruppi di lettura che verranno presentati questa sera. Intanto il piacere della lettura, che è così meravigliosamente intimo e personale, potrebbe, in un caso come questo, arricchirsi di un sapore nuovo, nel momento in cui viene condiviso con altri. In secondo luogo, attraverso i libri e il confronto, che poi inevitabilmente ne nasce, potreste costruire nuove relazioni e ampliare le vostre conoscenze. Potreste, inoltre, scoprire che le idee, i pensieri, le emozioni, una volta messi in circolo, si moltiplicano all'infinito, caprono lo sguardo verso prospettive impreviste, orizzontini nuovi. Vi potreste anche accorgere che ciascuno di voi può dare effettivamente il proprio contributo, cosa che non è frequente nel mondo di oggi, poter dire la propria. Ecco, questo è proprio uno dei casi in cui ciascuno può davvero dire la propria. e qui è proprio possibile un confronto libero, paritario e sicuramente aperto. Potrebbe anche succedere, ed è già successo, e non so fino a che punto siamo tutti felici di questo, lo dico con un po' di ironia, che proprio dai gruppi di lettura nascano nuove iniziative. Ad esempio, nelle due precedenti edizioni è nata l'idea delle ghirlandine, iniziative o incontri che si svolgono nel periodo di vacanza delle ghirlande per non perdere l'abitudine a incontrarsi su temi in particolare scelti appunto dai lettori. Oppure, sempre dalle ghirlande, è nato il poetry slam, anzi, guardate, il poetry quasi slam esiste solo a Brugherio, esiste solo in questa biblioteca. è la gara, diciamo, a suoni diversi e di poesie che infergora, diciamo, pubblico, giuria, poeti, in una serata che recentemente si è appena da poco svolta. E potrebbe persino quindi venirvi la voglia, questo è un altro degli effetti collaterali, di proporre un nuovo gruppo di lettura l'anno prossimo, perché così è stato. Io vedo tra il pubblico ex conduttori, ex lettori dei gruppi di lettura, nuovi persone che si avvicendano, che si passano il testimone, chi prima partecipava da dentro poi ha deciso di proporne uno proprio. Ecco, anche questo è un rischio collaterale, insomma, di quelli, un effetto collaterale da tenere ben presente. Da ultimo potreste anche scoprire che la nostra biblioteca è davvero ricca, ma non solo di libri. È ricca di disponibilità, di competenza, di idee, e potrebbe quindi venirvi la voglia di frequentarla ancora più spesso di quanto già non facciate. Insomma, se nonostante tutte queste controindicazioni e effetti collaterali che vi ho raccontato, avete ancora voglia di iscriversi, iscrivervi e partecipare a uno degli otto gruppi di lettura che verranno presentati questa sera, allora benvenuti e benvenuti a tutti. E buona serata oggi, e buone serate le prossime. L'ultima cosa, io non posso esimermi e lo faccio davvero, davvero col cuore da ringraziare tutte le persone che sono qui presenti con me al tavolo, Ervano Vercesi, nella doppia peste di conduttore del gruppo di lettura, di uno dei gruppi di lettura, e anche come rappresentante della biblioteca, e tutti i volontari che sono qui a condurre gli altri gruppi di lettura che partiranno questa sera. Buona serata. Prima di lasciare la parola ai nostri facilitatori dell'edizione 2016, che anche io ringrazio, è sempre veramente un divertimento, un appassione lavorare con i cittadini, con dei cittadini appassionati, perché questo dovete pensare che siano, mi perdonino se non passiamo del tempo a presentarvi uno a uno, perché non è una questione di essere particolarmente competenti o particolarmente esperti. Noi dobbiamo pensare che loro siano persone allo scaffale, sapete quando in biblioteca girate e trovate uno fisso davanti allo scaffale che passa in rassegna, ecco. C'è persone che sono, come dire, magneticamente attratte da qualche filone, argomento, materia, disciplina, anche soltanto tema o autore e, come dire, li vedete che scelgono dei libri per sé. La differenza in questo momento tra voi e loro è che loro hanno già scelto i libri e voi li guardate dal libro, diciamo. Perché nel gruppo non è che avranno il ruolo di chi conduce come un esperto e noi ascoltiamo, no, no, un gruppo come chi ha già frequentato i gruppi di lettura sa benissimo, è un gruppo appunto circolare e quindi il loro piacere di oggi sarà quello di farvi vedere che cosa hanno scelto per se stessi e per voi pensando al percorso da proporre. Però nel corso di questi sei mesi appunto questo ruolo, come dire, il bandolo della matassa vedrete che passerà dal direttore del gruppo. Buonasera a tutti, grazie a Enrica che mi ha presentato, sono Federica e anche quest'anno, dopo il frattempo, l'anno scorso, modero e posso presentarvi oggi con molto piacere la ghiembanda sul romanzo contemporaneo. Noi quindi leggeremo romanzi che abbiamo fatto l'anno scorso contemporanei, cui sono molto molto recenti e mentre l'anno scorso ci siamo dedicati al romanzo americano, quest'anno invece già omocriamo i confini. Sono una ghiembanda di romanzi internazionali, abbiamo romanzi statunitensi, abbiamo romanzi europei, abbiamo romanzi ciapponesi. Di fatto andiamo da una parte all'altra del termosfero grazie a un tema in comune, un tema che è decisamente internazionale, il tema del silenzio. Da qui il titolo della ghiembanda che è appunto Be Quiet, emozioni e silenzio del romanzo contemporaneo. Perché il fatto se il tema è il silenzio, però il tema fondamentale è il rapporto che c'è in questi romanzi tra l'emozione e il silenzio, tra quello che si può dire e quello che si tace, tra quello che si vorrebbe dire, esprimere, comunicare a chi c'è più vicino e a quello che invece si è in qualche modo costretti o si sceglie di tacere. È una continua tensione per la che vive in questi romanzi. Sono romanzi molto diversi, sono scrittori molto differenti l'uno dall'altro però la caratteristica in comune è che tutti i protagonisti, siano essi singoli, siano essi collettività, siano essi famiglie, hanno questo problema, non avere delle emozioni, dei sentimenti, rabbie, furoi, amori, dolori che strascinano nel tempo e quant'altro che non riescono a comunicare, che vorrebbero comunicare ma non riescono. si pongono sempre la domanda di quanto opportuno dire e quanto opportuno tacere se effettivamente parlare sia una prova di coraggio o se al contrario è più coraggioso in qualche modo tacere, tenere per sé il dolore e non comunicarlo che c'è più prossimo. Quindi la grazia di questi scrittori è proprio teoreviva, questa tensione man mano i romanzi vanno avanti. Perché tacciono? Si possono tacere per vari motivi, ci sono suicidi in questi romanzi, ci sono molti improvvise, ci sono relazioni sentimentali che sono in qualche modo scorrette da parte della collettività e quindi tacciono proprio perché c'è questo di fondo non ha grandi difficoltà a spingere temi così importanti, così seri. A volte invece semplicemente cacciano perché il silenzio è diventato un'abitudine, è il silenzio che si installa nella nuova di casa, che è diventato una media, per cui i rapporti che tra marito, moglie, genitori, figli, in qualche modo non si risolvono più, il silenzio è diventato un'abitudine e non c'è nessun modo di poterlo infrangere, di poter risolvere le cose più utili, purtroppo si non credono più nella parola, nella possibilità della parola e quindi la bravura di questi scrittori è saper fare merito nella lava del silenzio, c'è, sbagliato, la lava delle emozioni che poco a poco va a fessurare in qualche modo il silenzio e gli sa trattare il sanno maneggiare però c'è anche un'altra capacità dei miei scrittori appunto saper dare qualità al silenzio perché se pensiamo al silenzio pensiamo a una sorta di contro è tutto uguale, sempre uguale ma non è così ci sono silenzi differenti ogni mese non ne affronteremo uno come ogni mese c'è un autore ogni mese ci sarà un particolare tipo di silenzio non posso riscriverli tutti per ragione di tempo per me io per 5 minuti però uno ve l'ho già descritto qualche assaggio non è il silenzio del quotidiano il silenzio delle mura domestiche il silenzio di lui che si trincera dietro un giornale di lei che gli dà le spalle facendo qualche attività di casa quindi dei mariti e mogli in questa casa che non si parlano questo è il silenzio dei rappresentanti di casa che leggeremo ad aprile è l'unico che scrive racconti che sono romanzi il silenzio di tutti i giorni il silenzio che conosciamo bene che magari non ci piace anzi sicuramente non ci piace ma che maneggiamo e Carver ha la capacità di farci di sentire c'è un altro tipo di silenzio per esempio il primo che affronteremo è quello dei romanzi di Marias che leggeremo in febbraio è un silenzio a rovescio cioè il silenzio non è solo quello di chi non parla c'è anche il silenzio di chi non ascolta e quindi in qualche modo non ascoltando si costruisce a tacere tra l'altro visto che Maria sia uno scrittore anche molto molto sottile non è solo il silenzio di chi non ascolta è il silenzio di chi non vuole sapere di chi capisce che c'è qualcosa nel passato remoto distante non tanto può minacciarlo e che se lo viene a sapere non lo potrà più dimenticare non se lo potrà più nascondere e per questo motivo i romanzi di Maria si fanno rocamboleschi in quel modo cioè non tanto nel fatti ma molto nell'animo del protagonista perché c'è il protagonista che fugge non vuole sapere assolutamente niente e la verità che lo rincorre quindi è un'altra definizione del silenzio che trovo molto interessante e l'ultima chiudo su questo ma più della ghirlanda su questo poi che è il romanzi di giugno sono i silenzio dell'Escremoriente in proprio modo i silenzio dei romanzi giapponesi della cultura tradizionale giapponese il Giappone ha tradizionalmente il silenzio nella sua cultura non è la cultura che crede nella parola ci crediamo noi occidentali nella parola il Giappone no e leggere serve come sapremo bene un elemento di confronto di cultura non è detto che sia migliore la nostra vita e la nostra soluzione bisogna confrontarsi c'è un grande coraggio nel silenzio di questi romanzieri giapponesi e i loro personaggi e lo esploreremo grazie a Shikuro quindi quando il silenzio ha una soluzione cosa succede? Il Giappone ce lo può dire quindi io vi do partecipare perché sono romanzi bellissimi perché si fa veramente un esercizio di lettura attiva ovvio che leggere sempre un'attività attiva non passiva perché si muovono gli occhi da sinistra a destra sulla pagina però la caratteristica di questi romanzi più i romanzi si tirano indietro più in qualche modo tacciano si ritraggono più lo scrittore si più lo scrittore e il lettore si fa avanti cerca di capire di supprire i loro silenzi più la scrittura si fa scavra semplice povera di aggettivi più i dialoghi sembrano girare intorno invece di esprimere davvero qualche cosa più noi ci facciamo avanti come lettori cerchiamo di supprire concetturiamo pensiamo immaginiamo quale sarà la soluzione quando parleranno creiamo una colla che apparentemente i personaggi non ci danno quindi anche se non per questa esercienza di lettura attiva oltre che per la bellezza di questi romanzi e di scrittori notevolissimi io vi invito a partecipare a Bipopias grazie a tutti io quando sono uscito di casa venire qui a presentare questa esperienza di questa sera quando ho visto questa bella falce di luna che è crescente non calante in questo caso ho detto che non poteva esserti un migliore auspicio per presentare un gruppo di poesia come questa serata che è davvero una serata facile io quindi come sapete quindi come ho detto qui guiderò cercherò di partecipare a questo gruppo di politiche che io sostituisco Mario Bertasa che anzi lo ringraziamo Mario Bertasa è colunque ha seguito nelle scorse due volte il gruppo di poetiche al quale ho partecipato anch'io quest'anno ha deciso di utilizzarsi un anno sabbatico e mi ha chiesto se avevo voglia tempo e curiosità di seguire lo faccio molto volentieri lo faccio molto volentieri ma come ricordava prima appunto come si ricordava prima lo faccio molto per passione nel senso che la poesia è la mia vera passione che coltivo da sempre da quando avevo 14 anni e la cosa bella è che la coltivo nonostante abbia sempre fatto lavori diciamo lontani apparentemente lontani dalla poesia dall'amministratore comunale al cooperatore al sindacalista eccetera però questa la poesia mi è sempre servita invece per fare bene anche questi lavori per vivere la vita in maniera bella con ottimi perché la poesia cos'è se non vedere con occhi diversi le cose che ci appaggiano quotidianamente che la poesia sa trasformare e sa rendere bello e gioioso allora mi hanno chiesto di presentare un programma ovviamente come si ricordava i gruppi di lettura sono poi gruppi assolutamente liberi si fa quello che decide il gruppo quindi io ho cercato di presentare un programma secondo quello che mi sarebbe piaciuto fare l'idea centrale è proprio quella di andare a spasso mentre da altre parti sono letture di libri io ho pensato stavolta di fare una lettura un po' diversa di letture di singole poesie e il concetto è di andare a spasso con i poeti ma proprio a spasso io ho concepito questo gruppo di lettura come si va quando si va in una visita quando si fa in un torpedone si va in una visita guidata in una città dove ovviamente si vedono i monumenti principali si vedono le cose principali ma poi ci si può meravigliare in una vietta secondaria in una cosa che nessuno fa vedere che invece c'è si va sicuramente a mangiare in una se si può in una magari trattoria stellata ma poi magari si scopre che nella via fianco c'è un'altra trattoria che pur non essendo spellata però ci può dare delle cose che non ci aspettavano quindi è un viaggio che vuole essere l'insegna della tradizione di molte cose già conosciute ma al di là della scoperta delle cose e poi sarà bello parlare di queste cose un po' come tutti i viaggi sono delle indicazioni ma all'interno di questo viaggio sono talmente tante le poesie che possono rappresentarlo talmente tante le cose che si possono fare che non sarà un problema anzi potrà nascere ulteriormente altri percorsi e altre questioni una ecco diciamo quindi sono incontri due piccoli vincoli ci sono ci sarebbero per questo scelto uno è quello che solo poesi italiani ma perché solo poesi italiani ma perché almeno si evita il problema della traduzione delle cose eccetera poi banalmente anche perché sono quelli che conosco meglio diciamo su quali posso anche di più suggerire e discutere e l'altra anche questa voluta si andrà spasso anche per i secoli non leggeremo solo poesie del novecento contemporaneo ma volutamente per scelta cercherò in ogni gruppo di mischiare e di girare quindi dal contemporaneo all'antico al moderno e questa è anche una scelta che ho voluto perché questo è il modo che si può scoprire si può vedere quante cose che pensiamo magari quanto tradizione quanto incontro quanto passaggio c'è quindi è concepito proprio come delle passeggiate passeggiate che hanno anche loro come quando si fa in giro un proprio itinerario sono il primo gruppo sarà a spasso per l'Italia quindi sono poesie in cui ci sono poeti che parlano di esperienze di in città italiane tu mi sarebbe pensiamo quanto si poteva andare dal Piemonte da Piemonte proprio al Parlamento a Milano invece proprio passeggiate a spasso per l'Italia che diciamo in questo punto parleremo si vuole partire provocatariamente con una passeggiata vera la famosa poesia di Aldo Palazzeschi passeggiata andiamo andiamo pure in cui parla in realtà della via Garibaldi di Roma per poi magari andare subito a trovare Petrarca poverino che solo è pensoso i più deserti campi passava a passi calmi eventi per cui cercheremo proprio di far dialogare tra di loro i poeti e di vedere come in queste passeggiate quanto spirito quante cose ci possono essere quindi sei passeggiati tanto le vedete scritte e in utile ne parlo di tutto io ho avuto questo mi piaceva ne ho aggiunta una la pagina fuori sacco l'incontro con un c'è qui nel Guadalajara ma che sono passeggiate misogine perché questo mi interessava vedere come all'interno quanta misoginia si nasconde anche all'interno della poesia italiana ovviamente per combattere perché c'è una cosa che con l'obbio non sopporta la misoginia e che l'obbio non sopportare ma possa sopportare grazie buonasera a tutti il nostro gruppo buono da pensare quest'anno si titoli i semi e la terra ci occupiamo da davanti perché devo guardare l'orologio non c'è una cosa allora lasciamo di farla breve l'idea del gruppo mi piacerebbe dire che nasce dalla dotta citazione di Flaubert che abbiamo messo nella presentazione in realtà nasce dalla volontà molto più materiale del nostro gruppo di acquisto solidale il gas che è un gruppo di poesie che è un gruppo di poesie che è un gruppo di poesie molto squisitamente già esplorativo abbiamo guardato un po' a 360 gradi i mondi del cibo e abbiamo capito tre cose tante cose abbiamo capito ma almeno tre le abbiamo capite la prima è che ne sappiamo veramente poco cioè noi ci tiene in vita qualcosa di cui sappiamo molto meno di quello che sarebbe opportuno sapere data l'importanza che il nutrimento ha per la nostra vita devo dire ne sappiamo poco nonostante una quantità enorme di parole che viene a raccontare abbiamo pensato finalmente Expo è finito possiamo dirlo però insomma dopo un anno a sentirci parlare di cibo in tutte le salse programmi televisivi gare cose ecco nonostante questo fiume di parole sappiamo mediamente molto poco di quello che mettiamo in bocca che ci tiene in vita per un certo numero di anni la seconda cosa che abbiamo capito è che se tra tutte le cose che poco sappiamo ce n'è una che sappiamo meno di tutte che è come dire la trasformazione cosa succede lungo la filiera se io guardo il piatto da cui ho tratto il mio nutrimento questa sera dico chi ha raccolto quel frutto cos'è successo chi l'ha coltivato se è stato coltivato perché ormai questa è una domanda che ne cito farsi che cos'è successo in mezzo chi l'ha trasportato perché cosa ha fatto capite che da dove comincia dove finisce il cibo del cibo sappiamo ancora meno di quello che sappiamo in origine allora intanto questo è un aspetto molto particolare molto anche lungo da raccontare che da un lato dimostra che ci si può appassionare veramente a qualunque cosa e questa è una delle sue declinazioni siccome sarebbe un discorso veramente molto lungo quest'anno scegliamo ne scegliamo di concentrarci su un pezzo molto specifico che è l'inizio della vicenda cioè cosa succede in quel mondo ormai sconosciuto che è la campagna cosa succede all'inizio cosa succede tra i semi e la terra e chi li coltiva siamo tutti nipoti di contadini e quasi tutti figli di operari e di impiegati è bastata una generazione in mezzo a farci dimenticare da dove arriva da dove arriva il cibo e a farci dimenticare che mangiare come ci raccontano dei libri che leggiamo che leggeremo è un atto agricolo oggi spesso lo confondiamo con un atto agrituristico per lo più in realtà è un atto che ha molto a che fare con l'agricoltura da dove viene cosa resta di quell'esperienza dell'agricoltura nella nostra vita quotidiana esattamente come lo scorso anno il metodo sarà esplorativo non abbiamo insomma sappiamo qual è il territorio più o meno i suoi confini ci muoveremo di tappa in tappa andando un po' in giro guidati dalla curiosità che era insomma la madre della scoperta e dall'idea fissa della sovranità alimentare che è un'idea molto articolata che ci piace di proporre quest'anno come idea guida cioè l'idea che in qualche modo dovrebbero essere chi mangia e chi produce cibo e non alcune aziende a decidere che cosa mettere in bocca per stare in vita tutti i giorni sappiamo dove non andremo un po' come quello che sapeva chi non è piuttosto che chi è allora non ci occuperemo come l'anno scorso dei programmi televisivi di cucina di cosa fa bene cosa fa male le ricette ecco se uno gli interessa queste cose è meglio che vada nel gruppo dell'Antonella che è di molto simpatica si occupa di albi illustrati quindi non se ne occupa nemmeno lei di ricette come noi e quindi tanto male queste cose che è una taglia allora la terza cosa che abbiamo capito e chiudo è che la gente piace più mangiare che leggere l'anno scorso leggere non 10 non mangiare gelato non 80 questa è stata insomma una ferita drammatica l'autostima di molti di noi però ci dobbiamo fare il cuore quindi ciò premesso non abbiamo fatto un grande come dire visto che mi piace mangiare ma lei già abbiamo come dire destrutturato un po' il percorso quindi ammettiamo l'assaggio libro c'è una tavolata immensa di libri alcuni piuttosto difficili no venite assaggiate siete tutti benvenuti ce n'è per tutti e alla fine vedremo un po' se l'avremo digerito ti avrebbero imparato qualcosa insieme grazie buonasera si sente io mi chiamo Antonella e vi presento il gruppo di lettura sugli albi illustrati quindi un gruppo di lettura per adulti dedicato agli albi illustrati per bambini vi chiederete come mai però secondo me è un è un argomento molto interessante e magnifico e penso assolutamente che gli albi illustrati che sono diciamo i libri che hanno molte figure e poco testo e alcuni proprio il testo non ce l'hanno siano uno strumento bellissimo di relazione di relazione tra l'adulto e il bambino e questo vabbè facilmente intuibile nel senso che ormai tutti i progetti che esistono e che probabilmente conoscete da Nati per Leggere ad altri progetti diffondono visto che siamo proprio nell'uogo più adatto per fare questa cosa la diffusione e la promozione della lettura per i bambini già dai primi mesi ma mi permetto di dire anche già dai primi giorni di vita e quindi credo che sia uno strumento meraviglioso di relazione tra l'adulto e il bambino perché si crea veramente un momento magico ritirato privato che quindi accresce diciamo l'amore da una parte per l'adulto e il bimbo ma anche per l'amore per i libri e dall'altra credo che sia uno strumento bello anche per il bambino e il mondo quindi il bambino si affaccia all'universo alle novità che lo circondano alcune belle alcune meno belle e penso che gli albi illustrati riescano in qualche modo a facilitare insomma questo compito di affacciarsi sul mondo l'abbiamo chiamato con occhi di meraviglia appunto per questo perché da una parte l'adulto probabilmente ritroverà diciamo lo stupore quello stupore bambino che aveva quando insomma tutti noi nella nostra infanzia abbiamo aperto i libri i nostri libri più cari e la meraviglia invece di un bimbo che si affaccia a questa novità molti albi illustrati nel dei plan che avete abbiamo messo diciamo i titoli di riferimento che vedremo ogni incontro che vi porterete a casa ma l'idea è di diciamo fare un un viaggio anche qui che tocchi diversi 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 albi illustrati di diversi periodi e e per questo noi li abbiamo inseriti tutti perché mi piacerebbe anche che ci sia qualche sorpresa il secondo incontro sarà un incontro un po' speciale del 10 febbraio sarà un incontro un po' più tecnico inserito nella dimensione diciamo della mostra delle immagini della fantasia di Sarmide che la biblioteca di Brighiero ospiterà nella sezione degli allievi e quindi faremo diciamo un escurso un po' più tecnico su come mai si chiamano albi illustrati perché come è fatto un albi illustrato quindi dal formato al numero di pagine al confine della doppia pagina quindi sarà un viaggio un po' più tecnico e gli altri incontri invece avranno dei temi conduttori mi piacerebbe appunto entrare diciamo nella dimensione dell'io bambino quindi confrontarci diciamo con la visione dell'infanzia le prime esperienze i primi esperimenti la faccio sul mondo appunto che ritorna il secondo incontro sarà invece il il bambino e l'alterità per cui io e gli altri e ci sono degli albi molto belli che affrontano hanno affrontato questo delicato per alcuni albi penso agli altri di topi pittori o invece in un modo un po' più divertente anche melanconico dell'estate di Garman e poi concludo velocemente ci sarà un incontro sulle famiglie per cui tante famiglie negli albi illustrati non solo un'idea di famiglia ma diversi mondi e concluderemo questo nostro viaggio negli albi con un incontro speciale sui silent book che sono i libri senza parole per cui proprio perderemo del tempo a leggere con i nostri occhi un sacco di immagini quindi spero che io se intendo gli altri gruppi mi verrebbe voglia di sdoppiarmi partecipare a tutti però se vorrete aprite gli occhi grazie buonasera tutti io sono riccardo e francesco e tengo il gruppo chiamato le tremende sulle donne nella tragedia greca è un gruppo un po' particolare ma inizio subito con una premessa tremende non ha un valore negativo vuol dire semplicemente coloro che incutono timore o meglio premore e le donne della tragedia greca sono sicuramente delle donne potenti e delle donne che sono in grado di spaventare in ogni senso anche quando muoiono loro stesse insomma sono delle donne complicate dico subito e questa è una roba in pubblicità che il mio gruppo non è semplice la tragedia greca non è semplice non si può leggere una tragedia greca cioè siccome è una cosa molto naive senza avere determinate conoscenze riguardo l'argomento ciò non vuol dire che ci sono dei prerequisiti perché tutto verrà spiegato e insomma cercheremo di capire assieme che cosa rappresenta la tragedia per i greci e quindi è semplicemente per dirvi che richiede un po' di impegno io ho sviluppato questo che sembra un argomento molto mainstream ultimamente anch'io un'idea di viaggio ovvero sia noi visiteremo quattro città e un monte partiamo da Micene per arrivare sul monte detto Citerone in ogni città incontreremo una donna diversa che vive una tragedia diversa e sul monte Citerone che è l'ultimo dei nostri appuntamenti quindi giugno incontreremo invece le baccanti che sono forse l'espressione più grande di quella che è appunto la donna l'elemento femminile nella tragedia la tragedia greca è una sua storia che ovviamente non posso spiegare qua o la parola di tempo in cinque minuti quello che mi preme dire è che non è semplicemente rappresentazione teatrale non è un fattore privato il teatro non è mai stato così nella Grecia antica è qualcosa di assolutamente pubblico le persone erano pagate per andare a teatro un giorno di lavoro veniva soprattutto sotto Pericle veniva pagato le persone non andavano a lavorare si sarebbero recate a teatro per assistere a queste cerimonie che venivano appunto durante un periodo di tassa religione detto di amiciache qui incontreremo quindi anche questa figura che incontreremo più o meno in ogni tragedia quanto meno nominata quanto meno menzionata che è Dioniso Dioniso quell'accento che preferite una divinità strana una divinità particolare che ha molto di femminile ed è questo che a me preme in qualche modo mi piacerebbe far leva su questo il femminile nell'antica Grecia perché noi abbiamo una visione della donna nell'antica Grecia che è assolutamente sbagliata una donna che usciva solamente durante le festività religiose che era relegata alla cucina o a faccende domestiche non era esattamente così questa è la visione che danno anche a noi nel liceo ma studi moderni hanno dimostrato che non è così le donne che io andrò a vedere parlo di Medea Antigone Lettra ho preso anche la fedra sono donne potenti sono donne che non sono questo modello e questo stereotipo non direi che questi personaggi che questi tragediografi che hanno scritto queste tragedie sono dei femministi perché non lo sono però abbiamo degli elementi molto forti e molto moderni in ognuno di questi testi e non è tutto citerei per dirlo per magari avere anche un po' di uomini non è tutto incentrato sulle donne queste donne non parlano solamente di femminilità il problema della Medea non è solamente solo una donna il problema della Medea è la giustizia vendetta il problema della fedra non è solo innamorata il problema della fedra è incesto e altri sono delle tematiche in qualche modo generali dei tabù generali ed è un proprio ci sono degli argomenti molto universali direi che sarebbe interessante approfondire insieme con i dovuti strumenti e con le dovute spiegazioni e con i dovuti pareri e con il supporto e l'approccio di tutti buonasera siamo al sesto gruppo la lampada di Diogene che è al terzo anno Diogene era il Socrate Pazzo la cosa che andava in giro ogni giorno ad Atene con una lampada in mano dicendo cerco l'uomo ecco questo è un buon requisito per chi vuole partecipare a questo gruppo avere un pizzico di sano follia cioè la follia di chi si pone degli interrogativi a cui l'umanità in tutto il suo cammino non è riuscita a rispondere e quindi noi figuriamoci il mercoledì sera a Pardo Perio chi metteremo a ragionare su questi grandi interrogativi però con leggerezza con gusto con pioia cioè con la capacità di sapere che noi non sappiamo e non è che a giugno ne sapremo molto di più però ci saremmo molto divertiti avremo molto dialogato e avremmo fatto fronte comune al problema che uno da solo di fronte a tante cose da conoscere non ce la fa mettendosi insieme è meglio uno legge un libro e lo racconta gli altri e gli altri imparano può essere che in una serata in cui siamo in 5, 6, 7 possiamo dire che va dentro 7 di due in una sera la domanda è una domanda di quelle che pesano la domanda è che cos'è il tempo Sant'Agostino l'hanno raccontato a scuola ebbe una frase fulgurante il tempo sappiamo tutti cos'è tranne quando ce lo chiedono cos'è il tempo cosa sono 5 minuti cosa vuol dire che il tempo scorre ma scorre davvero ecco queste sono domande che se togli via il velo dell'ovvietà perché non ci pensi mai sono domande che ti lasciano se poi cominci a guardare vari saperi perché a noi piace mischiare i saperi noi non andiamo a interrogare una sola e una coppina noi ne troviamo tante vorremmo quasi interrogarle tutte addirittura partiremo dalla scienza perché la scienza è nostra amica fedele e la scienza però sul tempo ci dice delle cose strane ci sono studi fisici ultimamente che vi dicono che il tempo non esiste è una vostra illusione vi spiace svegliatevi 5 minuti parlerò 2 ore 2 ore 5 minuti lo stesso preparatevi ma allora andiamo dalla biologia noi siamo esseri viventi avremo dentro un qualche orologio molecolare i ritmi circadiani eccetera eccetera e qui anche la biologia ci darà delle risposte probabilmente un po' strane probabilmente dei ritmi ce li abbiamo dentro il vivente qualcosa forse col tempo ha a che fare e chi percepisce il tempo? il nostro cervello ma che cosa nel nostro cervello percepisce il tempo? oggi ci sono degli studi che stanno cominciando a capire qualcosa di questa simpatica cosa per cui questo piccolo organo che si è voluto per selezione naturale percepisce in qualche modo si accorge che il tempo passa e dal cervello allora passiamo alla mente cioè chiediamo alla psicologia che cosa è il tempo quando lo percepiamo noi quanto conta per un'esistenza la percezione del tempo perché noi sappiamo di nascere crescere di invecchiare e ahimè penso per voi non per me morire perché moriamo perché invecchiamo non è chiarissimo però ciascuno di noi deve fare i conti con questo problema qua e quindi bisogna un pochino pensarci ma allora la filosofia dice oh attenzione io sono 2500 anni che ragiono su queste cose perché hanno vinte a pelli ricordate Zenoni suoi paradossi e ancora la tartaruga cioè che cosa è il tempo è una domanda che sono fatti tantissimi filosofi benissimo abbiamo lì tantissime risposte uno va ne pesca come la legge non siamo a scuola non vogliamo fare storia di nessuna disciplina e così il nostro discorso può continuare e possiamo arrivare a chiederci per esempio io sotto casa mia ho un supermercato che da luglio è aperto 24 ore al giorno 7 giorni su 7 e allora mi interrogo ma questa società a che tipo di tempo ci obbliga sempre attivi sempre connessi voi sapete che la nostra generazione dorme due ore in meno di quanto si dorme nell'800 ogni generazione dormiamo sempre meno ci sono società che chiedono e non mi ascolti la mia dirigente l'obbligo di rispondere ai messaggi telefonici entrano a qualsiasi giorno del giorno della notte ci sono lo fanno e allora ci interrogheremo anche sulla sociologia sull'economia sulla struttura di questa nostra società il tempo è determinato ci dicono ma è vero tutte queste voci oppure manca una e manca una di quegli antichi racconti che dicono che Dio il settimo giorno si riposò e finalmente qualcuno ha inventato un giorno di riposo però le religioni sono strane perché le religioni non ci piace il tempo non ci piace l'eternità la vita eterna cosa diamo vuoi questa vita eterna perché ce la dovremmo meritare invece che occuparci della vita questa ma è vero che le religioni dicono questo forse non dicono esattamente questo vedete quante voci quanto c'è da leggere ciascuno sceglie quello che vuole con tutta libertà viene e poi lo racconta il gruppo il gruppo dialoga l'unico prerequisito che io pongo è che nessuno venga perché sa già tante cose vuol far vedere che le sa no il nostro gruppo umile perché Diogene ci insegna che è una piccola rampa che fa luce e non la luce del sole di mezzogiorno grazie buonasera mi chiamo Marco Fossati e il nostro gruppo gli sdraiati si occuperà dell'ado sapiens come riconoscerlo origini e diffusione organizzazione sociale cultura e habitat dell'ado sapiens in questi incontri attraverso un approccio scientifico e con l'aiuto di alcuni testi scritti da autorevoli autori intendiamo approfondire insieme a voi lo studio del noto ma ancora misterioso ado sapiens la do sapiens come tutti noi sappiamo circola liberamente per le nostre città vie piazze ma predilige i parchi o i parcheggi non disdegna i centri commerciali ha escrescenze auricolari che lo fanno muovere dondolandosi e se si entra in contatto con lui in questo momento catartico non è possibile alcun tipo di interazione si muove in gruppo seado sapiens maschio o in paio seado seado sapiens femmina va spesso in calore ado sapiens maschio in calore si lava si profuma si sistema il pelo e gonfia il pettorale ado sapiens femmina in calore mamma o non mamma mi guarda o non mi guarda scopre parti di sé e le mette in mostra passeggiando ripetutamente davanti ad esemplari ado sapiens maschio il primo compito evolutivo dell'ado sapiens è scrollarsi di dosso la rappresentazione dell'uomo e del mondo ereditata dai genitori detti ado sapiens sapiens e questo questo peso li porta ad agire sempre in contrasto con le attese dell'ado sapiens sapiens il secondo compito evolutivo è conquistare il proprio territorio quando un ado sapiens sente di essere in territorio altrui ospite indesiderato perde dignità china la testa o più spesso diventa arrogante soprattutto quando l'ado sapiens sapiens continua a segnare ripetutamente il territorio sappiamo che l'ado sapiens maturerà e infine inesorabilmente si trasformerà nell'ado sapiens sapiens se avete a che fare con l'ado sapiens oppure per semplice spirito scientifico frequentate il gruppo gli sdraiati tenuto da Cinzia Assi Elena Maziello e da sottoscritto Marco Fossato buonasera io sono Francesco Smetti e prendo il testimone da Davide Moni sul gruppo sui fumetti il titolo di questo gruppo è esseri inumani le relazioni con gli altri secondo i fumetti questo perché perché è molto interessante analizzare le relazioni che i personaggi dei fumetti hanno con altri personaggi che noi non potremmo mai incontrare nella realtà questi esseri inumani in realtà non sono solamente quelle creature che noi non potremmo mai incontrare ma siamo noi stessi e ho voluto dividere gli incontri in quattro temi fondamentali il primo riguarderà il rapporto tra l'essere umano e la vita creata dall'uomo tramite i cavi la tecnologia quindi ci riferiamo ad androidi e perciò degli esseri che non dovrebbero avere una consapevolezza dovrebbero solamente agire o dovrebbero essere stati solamente creati per degli scopi in realtà gli androidi che ci troveremo davanti non saranno così questo perché all'interno del fumetto gli androidi vengono costruiti per motivi più disparati a volte per sostituire degli affetti a volte solamente per soddisfare delle pulsioni sessuali per esempio e in particolare modo inizieremo da uno dei più celebri fumettisti che siano mai esistiti cioè Osamotezuka che veniva anche chiamato il dio dei manga e che crea la celebre serie di Astro Boy dopodiché il secondo incontro si dedicherà invece a delle creature sempre che vengono realizzate dagli esseri umani ma che vengono sentite più vicine all'uomo questo perché sono biologicamente degli esseri umani perciò non sono creati con dei codici non agiscono solamente perché gli è stato ordinato di fare in un certo modo agiscono proprio indipendentemente e perciò ci rifereremo ad ununculi che sono quegli esseri che sono stati creati tramite l'alchimia un'unione di scienza e magia e ai cloni sempre creati dalla scienza in particolare ci dedicheremo a Fullmetal Alchemist che è un celebre fumetto realizzato da Ikeromo Arakawa che adesso invece sta procedendo su un altro genere di fumetto ed è capace di sia parlare di argomenti molto seri come in questo caso la creazione di esseri umani a partire da semplicemente materia fino ad arrivare a farci divertire inserendo moltissime gag e poi vedremo anche un altro esempio di un'autrice italiana Alessandra Patanè che realizza Grady Flower dove in realtà queste persone non sono create dagli esseri umani ma sfruttate da un'entità malvagia il terzo incontro invece si dedicherà a tutti quegli esseri di cui l'uomo nutre paura l'uomo spesso però nutre paura solamente per questioni fisiche legate a questi personaggi infatti l'ho voluto chiamare mostri e alieni non ci fermeremo solo lì ci saranno anche creature come l'uomo o mini lupo ad esempio un esempio lampante può essere quello degli X-Men gli X-Men sono i famosi supereroi che sviluppano dei poteri perché geneticamente nati così per molto tempo anche all'interno del fometto stesso vengono trattati come dei veri propri mostri ma perché oltre ad essere differenti fisicamente alcuni nutrono dei nutrono del pericolo nei loro confronti perché possiedono questi poteri che gli uomini ovviamente non hanno e un altro esempio di questo incontro sarà Adez sempre di delle italiane l'area catalani Silvia Tidei dove vedremo invece gli spiriti che lanciano dei malocchi ma che non si comportano in realtà in modo diverso rispetto agli esseri umani l'ultimo tema sarà quello del viaggio ed in particolare è diviso in due parti il viaggio che viene affrontato dagli adulti e il viaggio invece affrontato dai bambini questo perché spesso mentre gli adulti si ritrovano catapultati in una realtà differente e quindi avviene un ribaltamento in cui noi siamo i mostri per l'altra società invece i bambini vivono questo viaggio più con leggerezza ma con la voglia di ritornare a casa perché giustamente sono dei bambini messer fai fai bon giù Grazie.